Ciao a tutti, vediamo in questo video i segni zodiacali sempre in crisi. Allora, quali sono i segni zodiacali sempre in crisi? Allora, troviamo al quinto posto, troviamo il leone. Il leone, diciamo, è uno dei segni più drammatici, no? Dove tutte le cose che gli capitano vengono drammatizzate. Sono concentrati su se stessi e da questo punto di vista particolarmente egocentrici fondamentalmente. Vogliono essere sempre protagonisti di una sorta di psicodramma. Poi troviamo l'arieta al quarto posto. L'arieta, diciamo, è un segno anche, che ama anche l'arieta, è fare un dramma del nulla. E talvolta, diciamo, ad esempio rovina talvolta delle serate o anche delle relazioni perché è preso dall'impulso. L'arieta lo fa per egocentrismo, l'arieta lo fa per impulso. E poi abbiamo la bilancia, al terzo posto. Diciamo, la bilancia è un segno che non si fa scrupoli a creare problemi agli altri. E quindi talvolta tendono a sparlare, tendono a essere un po' pettegoli, a fare drammi per cose veramente piccole. La bilancia è un segno anche che non ha fatto che giudicare gli altri e valutarli soprattutto da un punto di vista estetico. Poi troviamo il cancro al secondo posto. Gli amici del cancro, diciamo, sono dei segni che prendono tutto sul personale. Qualunque cosa accada, tendono a prenderlo sul personale. Ovviamente il cancro è un segno molto legato alla famiglia, però proprio perché è legato alla famiglia, vanno in crisi, ad esempio, per problematiche familiari, che di fatto non è che c'entrano con loro, ma magari legati ai figli, già grandi, loro si fanno carico, tendono a farsi carico e quindi vivono stati di crisi. E poi al primo posto abbiamo il segno della Vergine. Il segno della Vergine è un segno che è spesso in crisi. Diciamo, perché va sempre alla ricerca della perfezione dell'ordine, quindi essendo perfezionista trova sempre le cose che non vanno e quando c'è qualcosa che non va questo lo manda in crisi. La Vergine è comunque un segno molto affascinante, capace di creare, diciamo, attorno a sé una vera e propria corte dei miracoli e però quando le cose non vanno bene talvolta si fa carico anche di questa, tra virgolette, corte dei miracoli per cui vive una crisi anche quando non viene più magari considerato come prima. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto mettete un like, condividilo con i nostri amici, iscrivetevi al canale, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e TikTok ovviamente. Ciao a tutti!